Questo incremento di sanzioni non è dovuto al fatto perché abbiamo aumentato le fototrappole ma perché molto probabilmente sono aumentati i comportamenti non regolari e quindi è un dato che bisogna incrementare la pressione e il controllo proprio per stroncarlo per far sì che non diventi davvero un fenomeno importante. Stretta del comune di Arezzo sui furbetti dei rifiuti, nel 2018 erano stati infatti 204 i verbali elevati per un totale di oltre 32.000 euro ma nei soli primi quattro mesi del 2019 i verbali fatti sono già 105 per quasi 17.000 euro. Emerge un dato critico che molti abbandoni sembrano che siano stati effettuati da ditte, da imprese, da società, da persone giuridiche. È un fenomeno che risente un po' della crisi generale che c'è ovviamente nell'economia nel nostro paese e quindi per certe attività fatte più o meno sotto traccia chiaramente l'operatore è indotto in maniera ovviamente ingiustificata e illecita a abbandonare anziché servirsi dei canali ufficiali per lo smaltimento ovviamente dei rifiuti di produzione di attività edile. Ci sono degli abbandoni anche di rifiuti ingombranti tipo materassi, reti, divani, anche questi del tutto ingiustificati perché c'è un servizio gratuito per il cittadino che viene svolto da Sia Toscana, basta chiamare il numero verde e prenotarsi. La vita dei furbetti dunque si fa sempre più dura nel territorio comunale e aretino dove sono in tutto 24 le fototrappole installate a contrasto dell'abbandono selvaggio di rifiuti. Sono in grado di riprendere questi comportamenti, di individuare attraverso la lettura della targa e di risalire il soggetto che ha in qualche modo compiuto l'atto di abbandono e quindi poi ovviamente c'è tutto un percorso per arrivare poi all'erogazione della sanzione. Ma non solo fototrappole, ispettori ambientali a breve infatti si potrebbe arrivare anche ad un monitoraggio costante in tempo reale. Stiamo sottoscrivendo con l'Università di Siena, con il Dipartimento di Elettronica, una convenzione per la messa a punto di un sistema, un software che in automatico riesce a leggere dalle immagini i comportamenti scorretti in tema di conferimento dei rifiuti urbani e quindi ci consentirà di individuare in tempo reale ovviamente chi è il trasgressore ma anche in tempo reale intervenire per ripristinare le condizioni di decoro, soprattutto in ambito urbano. Grazie